Allora, questo è l'oggetto che mi permette di comandare l'air assist con il laser. E come vedete è una semplice scatolina che ho fatto, l'ho personalizzata con il logo di LBK che è la tastierina che vedete sullo schermo del mio video. E c'è una presa e una spina collegate da un cavo elettrico. E più c'è questo altro cavetto. Questo cavetto che viene collegato alla scheda madre del laser. Ma cosa c'è dentro la scatolina? C'è una cosa molto semplice. Ve la faccio vedere, la apro in questo modo. E' incastrata perché la scatolina è fatta abbastanza bene. E c'è un relais. E più c'è un collegamento elettrico appunto dal relais alla presa e alla spina. Il relais è questo. E' questo oggettino qua che vedete adesso. Dove ci sono? Adesso sposto un attimino questo. E vedete che ci sono queste due morsettiere dove da una parte ci deve andare in questo caso da questa parte la connessione elettrica 220. Quindi il cavo che viene interrotto dalla spina alla presa e deve andare settata qui dove c'è scritto normalmente aperto e comune. Quindi NO e CO. Non so se si vede bene però dopo vi metto una fotografia ecco quella che vedete adesso è più da vicino e si capisce meglio come deve essere messo. L'altra morsettiera invece ci va il positivo e il negativo che andremo a sprendere dalla scheda madre. E in più nell'ultimo ci va il segnale che se non vado errato sia questo e l'ultimo e dove c'è un cavetto che va a un pin della scheda madre che invierà un segnale che andrà a fare aprire e chiudere il circuito. Ci sono due led uno rossa e uno verde dove si vedrà appunto se è in funzione ed è per quello che ci sono questi due fori nella scatolina. Quello che interessa è principalmente questo perché qui si vede la luce che è verde o rossa del laser e questo l'ho fatto solamente per una simmetria. Il foro non scalda quindi non c'è necessità di raffreddare tutto l'interno. Allora come si procede all'identificazione dei pin per andare a vedere cosa dobbiamo andare a collegare fra la scheda madre e quei fili che abbiamo visto. Allora abbiamo bisogno di un altro marchi ingegno che adesso vi faccio vedere. Quello che adesso vi mostrerò tolgo questi che ormai non ci servono praticamente più e abbiamo bisogno di un multimetro come questo. E' un tester multimetro, chiamatelo come volete, non serve una cosa professionale, bastano anche quelli che si trovano nei negozi dei cinesi che sono ormai dappertutto. Con pochi euro si acquista e serve per andare a vedere quali sono i pin giusti da andare a connettere. E non è così difficile perché vi dirò come fare. Allora io ho provato il collegamento di questo Air Assist automatico sia sulla scheda 8 bit, quella mia vecchia, perché già funzionava con quello, perché l'ho già fatto qualche settimana fa questo esperimento, sia con quella nuova che ho montato che avete visto in uno degli ultimi video che ho pubblicato. Allora, logicamente prima di acquistare il relè, di acquistare i cavetti eccetera eccetera, cioè che servono per le connessioni e mettersi a far tutto, la prima cosa che c'è da fare è verificare se la vostra scheda madre vi consente di fare questo. Perché? Perché alcune schede madri di alcune marche non sono settate come le schede, diciamo, proprio le schede madri, quelle madri madri, cioè quelle proprio della maker base. Come vi ho detto nell'altro video, le schede che vengono utilizzate dagli assemblatori, dai costruttori di laser, sono schede fatte per loro su misura, che hanno delle, tra virgolette, limitazioni o piccole diversità. Questo perché? Perché consente appunto ai fornitori, ai di laser, alle varie marche, di personalizzarla e solitamente le personalizzano al ribasso, cercando di risparmiare. Quindi alcune connessioni non ci sono, per esempio tanti non hanno gli stepper sulla sede le zeta, perché magari non hanno l'intenzione di implementare quel modello con la sede le zeta e così via. Alcuni non hanno i collegamenti per far funzionare l'Aira System. Quindi consiglio sempre prima di testarlo con il multimetro o la vostra scheda. E' molto semplice da fare, perché vi chiedo di testarli, perché alcune schede potrebbero essere non compatibili, oppure sono leggermente modificate, bisogna fare qualcos'altro. Quasi tutte le schede però ce lo consentono di fare. E le vedremo. Vi faccio vedere lo schema della 8-bit, che è questo. e vedete che ci sono questi punti, 1, 2 e 3. Sono i punti che dobbiamo collegare il relay con la scheda madre. L'1 e il 2 sono la, diciamo, la tensione positiva, quindi V+, e il 2 è il V-. Le andiamo a prendere, sia dalla scheda a 8-bit che alla scheda a 32-bit, che adesso vi faccio vedere, dal probe. Allora, il probe cos'è? E' un, ci sono su quasi tutti, non tutti ce l'hanno, casomai, lo prendete, quel voltaggio da un altro, altri pin che hanno più o meno 5 volt, io prendo quelli del probe perché non si utilizza, e perché è vicino all'altro pin, quindi praticamente era vicino un po' il tutto. Il punto 3, invece, va messo. Nel caso della scheda a 8-bit, su uno di quei pin che sono denominati solitamente con una A, perché sono di Arduino Uno, le prime le facevano senza personalizzarle tanto, quindi lo andiamo a mettere sul A3, e andiamo a utilizzare, su Lightburn, M8 in impostazioni, adesso vi faccio vedere, qui si va in modifica impostazioni periferica, e si va a selezionare M8, questo per quanto riguarda la scheda a 8-bit, quindi quelle che, tipo quelle che avete in figura. Poi se avete magari dei dubbi, eccetera, magari mi scrivete un messaggio, vi dico io che scheda avete, mi fate una fotografia, vi dico che scheda è. Comunque sono facilmente riconoscibili. Se invece avete una scheda a 32-bit, allora il terzo pin, i probe vanno bene, oppure il più e il meno 5-volt vanno bene. Per quanto riguarda invece il segnale, non l'andrò più a prendere dallo A3, dal pin A3, ma l'andrò a prendere, come vedete in figura, dalla SCL, dal pin SCL, e dovrò andare però, se abbiamo la 32-bit, a selezionare qui, sulle impostazioni della periferica, M7, perché cambiano, qui in questo caso mi dice, perché io sto facendo dei test con la scheda a 8-bit, quella vecchia, e mi dice, guarda che non funziona, se viene questo avviso, non vi preoccupate, perché non funziona comunque la cosa, quindi non ci sono grosse problematiche. Allora, io con la nuova uso M7, con la vecchia usavo M8, questo è quello che dobbiamo ricordarci. E adesso andiamo a vedere come misurare. Allora, prendiamo il nostro tester, e però ve lo faccio vedere proprio sulla scheda madre che ho io. Allora, questa è la scheda madre, e come vedete ho qui di fianco il mio tester. Cosa dovrò andare a misurare? Dovrò andare a misurare la tensione che c'è fra, vedete, questo è Probe, e metterò il rosso sul V positivo, quindi è il primo pin, comunque c'è scritto sempre qui di fianco cosa si riferiscono questi pin, andrò a toccare questo, e andrò a toccare, in questo caso, la A3, ok? Nel caso della scheda A8-bit. Nella scheda A32-bit, si va a toccare il positivo di Probe, e come segnale andiamo a toccare l'SCL. Allora, quando è spento, quindi quando non abbiamo dato alcun comando, il valore che ci restituirà il multimetro è il valore massimo del voltaggio, quindi 5 Volt, ok? Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a mettere su Lightburn, e ve lo faccio vedere, io vado a mettere, mi darò un errore, perché logicamente ora la scheda, tra l'altro, non ce l'ho nemmeno collegata, perché l'ho messa qua, vado a scrivere qui, M8, in caso di, in console, M8, in caso di scheda A8-bit, do invio, e vado a misurare. Se avessi una scheda A32-bit da testare, dovrei mettere M7, dopo aver, logicamente, sistemato anche dalle impostazioni della periferica. Do l'M8, quindi cosa dico? Accendi l'aria, vado a misurare, sempre fra il positivo e il segnale, quindi A3 oppure SCL, con il comando M8, deve andare a zero. Se va a zero, siamo a cavallo, ovvero sia funziona. se invece non da zero, rimane 5, oppure, se vediamo che, praticamente, prima, facendo la prova di prima, quindi, spento, non mi da 5, c'è qualcosa che non va, ma se mi da 5, quando io non sono intervenuto, mi da zero, o vicino allo zero, un po' meno, diciamo di 0,1, eccetera, quindi non mi da 5 volt, me ne da quasi zero, funziona. Prova del 9, quando io scrivo qua, in console, M9, lo invio, si spegne, e dovrà ritornare a 5 volt, se andiamo a fare la prova fra il V più di probe e il segnale, quindi, nel caso della scheda 8 bit, ripeto, per l'ennesima volta, la 3, e nel caso della 32 bit, il pin SCL. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora, ci sono alcune eccezioni. Sulla 8 bit, che però non sono tra le più recenti, quasi tutte è possibile farlo. Sulla 32 bit, ci sono delle personalizzazioni. Per esempio, vi dico subito, che se avete una 2TRIZ, tipo TTS 55, eccetera, come modello del laser, non è abilitato quel pin, e quindi, non riuscite a farlo. Sto studiando una cosa, che forse vi permetterà di farlo, se riuscirò, poi magari ve lo dirò, troverò il modo di dirvelo. Per esempio, Atomstack, l'SCL, che solitamente, come vi rifaccio rivedere, dov'è nella 32 bit, ha i pin rovesciati, quindi, invece di essere verso il centro della scheda, è verso l'esterno della scheda, e quindi, non cambia niente, se non che dobbiamo andare a testare quell'altro pin, non quello SCL lì, perché alcune schede, di alcune marche, non hanno nemmeno le nomenclature, di fianco i pin, lo fanno per, vabbè, lasciam perdere, sono considerazioni mie, e quindi, diciamo come si può fare, con la 32, la Macker Base, che ho recensito, nel recensito, ho fatto vedere, perché l'ho messa io, me la sono comprata, me la sono messa, quindi non avevo da fare pubblicità a niente, ma la ritengo una buona scheda, e perché mi fa fare anche queste cose. Quindi, è abbastanza semplice. Una volta che siamo sicuri che questo giochino funzioni, possiamo passare alla seconda fase, ovvero sia andare a montare il nostro Air Assist Automatico. Vediamo come. Ecco, come vedete adesso, qui sulla scrivania, ho la mia scheda, ho il Relais, e ho questi tre cavi. Questi tre cavetti si chiamano cavetti Dupont, si trovano, si reperiscono, costano poco, magari se andate in un negozio di elettronica ce li hanno, oppure li potete comprare su Aliexpress, vi metterò il link, su Amazon vi metterò il link, sia del Relais che dei cavetti, se ve li volete fare, io solitamente me li faccio da solo, e ho tutto il necessario per farmi, i cavetti che mi possono servire per il laser, perché ogni tanto si può bruciare qualcosa, e altrimenti vi comprate qualche cavetto di questi, costano una stupidaggine, vanno collegati, come vi dicevo, con lo schema che adesso vi rifaccio rivedere, quindi praticamente, l'1 va nel positivo della probe, guardate qua, è molto semplice, si infila qua, il 2, il filo 2, che è il negativo, in questo caso è bianco, lo vado a mettere nel negativo della probe, ok, qui ci vorrebbe una terza mano, che non ho, e il terzo, che è quello del segnale, si va a mettere, nel caso di una, di una scheda a 8 bit, qui sull'A3, altrimenti si mette sull'SCL, io ora non sto a smontare la mia scheda, perché ho già, ho montato, perché ho già smontato altre cose, per fare questa cosa, a questo punto, su questo lato del relay, andrò ad interrompere, un cavo, che mi pare, mi da il 220, attenzione, perché qui c'è il 220, quindi fate tutto staccato dalla corrente, qui se anche è in tensione, perché deve essere in tensione, per fare misurazione, parliamo di voltaggi, di 5 watt, volta al massimo, quindi non la sentite nemmeno la corrente, però qui se andiamo a mettere le mani, sul 220, quindi un pochettino di attenzione, cosa succede, dobbiamo andare a interrompere, una prolunga, tagliamo, e qui interrompiamo un cavo, come fare un interruttore, se non avete dimestichezza, rivolgetevi a qualche, da qualche amico, che magari ha un pochino più manualità, con i collegamenti elettrici, ma è una stupidaggia, ci sono riuscito io, ci riuscite tutti, quindi questo è il collegamento, cosa succede, succede che quando andremo, in un livello di lightburn, ve lo faccio vedere, io vado ora, qui a, proprio a fare una, un rettangolino, tanto per far vedere un livello, quando io metterò, assistenza, aria, sì o no, adesso ora, devo scollegare, perché questo era, assistenza, aria, sì o no, se i collegamenti, li ho fatti bene, se sono tutti calcolati, sentirete, questo, ecco, adesso, provo a dare, l'invio del lavoro, magari qui ti vado a cambiare, il numero dei passaggi, quindi ho azionato, l'aria qui, in questo caso qua, vedete, adesso io avvio il lavoro, quando avvio, partirà il compressore, partito, finito il lavoro, va in posizione, spegne, automaticamente, non c'è più rumore, non ve l'ho inquadrato, perché è solamente un rettangolo, che ho fatto qua, va bene, io mi auguro, che il video vi sia piaciuto, se avete dei dubbi, magari, mi scrivete nei commenti, se avete magari, qualche richiesta di consiglio, per una spiegazione ulteriore, eccetera, scrivetemelo nei commenti, se vi è piaciuto, un like, mi raccomando, un like, iscrivetevi al canale, perché queste cose qua, le dovete sapere, le vedete, quando io le metto, e con la campanellina, sarete i primi a vederlo, quindi sarete i primi, ad avere queste novità, perché ci saranno altre novità, in seguito, io adesso vi lascio, vi saluto, e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ve l'ho detto, like, iscrizione al canale, e campanellina, ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.